possiamo dare avvio anche alla registrazione sofia e intanto do il benvenuto a tutti gli investitori doorway che si sono collegati oggi per questa sessione di approfondimento sul sullo startup studio abbiamo invitato a parlarci dello startup studio e dei migliori modi di finanziarlo farà ad alessandro mohamadi che membro di studio ab cioè quindi la più grande associazione di startup studio a livello internazionale autore di tre white paper su startup studio sul miglior modello di finanziamento degli startup studio nonché speaker ad eventi internazionali come il building scalable venture non ultimo ceo di mamma zen e di ih1 in questo in questo momento è raccolta in piattaforma prima di dare la parola a farad volevo semplicemente dire ai nostri investitori che ogni naturalmente domanda curiosità assolutamente benvenuta vi preghiamo di sottoporre le vostre domande intervenendo direttamente durante alla fine della presentazione o sottoponendoci le vostre domande via chat prego farad se vuoi iniziare più che volentieri ciao barbara ciao ciao a tutti grazie e va bene io procedo con vi racconto un po insomma un po di più di quello che di quello che il mondo di startup studio così entriamo un pochino più più nel più nel dettaglio per dare vado un po sul sul che cos'è uno startup studio così perché comunque come tipologia di domande mi arrivano ancora mi arrivano ancora spesso ancora comunque in italia l'ecosistema l'ecosistema degli startup studio non è così sviluppato e quindi ancora adesso c'è sia un po di confusione su che cos'è sia mi capita spessissimo che investitori persone mi chiedono appunto se possiamo prendere una loro early stage startup quindi e aiutarla non so sviluppare il software o se quindi insomma un qualche cosa che ancora si confondono quindi allora anzitutto che cos'è uno studio non quindi partiamo da proprio dalla base ma allora uno studio è un'azienda ok o qualcuno della volta la definisce una startup però per me è un'azienda che crea che crea startup quindi una fabbrica una fabbrica di startup perché perché si chiama studio proprio si chiama studio perché in realtà quando nacque la prima volta nel 1996 si prese idea lab all'epoca si prese l'idea dell'economia di scala no che si faceva all'interno degli studios cinematografici sia in termini di recupero delle scene sia in termini di eh un team di persone magari lavorava anche su più ehm su più parti sia in termini di azione no quindi la logica era portare ehm industrializzare quindi rendere più efficiente fare economia di scala sulla creazione di startup no quindi è una fabbrica si producono le startup internamente non le si accelera non le si incuba qual è la differenza adesso in questo grafico qui vediamo che cosa fanno poi ci sono piccole differenze perché ci sono acceleratori early stage acceleratori early stage in Italia praticamente non ne abbiamo o non credo che ne abbiamo però di solito l'acceleratore serve a prendere una startup accelerarne le metriche una startup già creata già pronta già con un team già che funziona accelerarne le metriche e portarla a un round di investimento normalmente i programmi di accelerazione durano pochi mesi perché l'obiettivo è unico no? L'obiettivo è prenderle N portarle a un investimento le migliori vengono investite l'approccio è hands off oppure un hands on però più diciamo più 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 morbido nel senso che c'è mentorship ci sono ehm c'è un network però non non è un approccio fattivo non è un approccio operativo non si produce non si è si si aiutano i founder a produrre ma non si produce normalmente l'equity eh che chiedono è una quota di minoranza molto piccola e eh si selezionano le migliori ovviamente perché il loro obiettivo è portarle e portarle a round e prendere una una piccola stake l'incubatore invece in una fase un po' eh diciamo eh prima è proprio l'incubatore no? viene il nome viene proprio da incubatrice da incubatore quindi dal fatto di prendere un qualche cosa ancora in erba super in erba eh un semino e aiutarlo proprio a a a crescere quindi dandogli gli strumenti dandogli il network dandogli gli strumenti proprio per fare i primi passi di un'impresa l'approccio sempre hands off normalmente sono strutture pubbliche e quindi di solito prendono poca equity oppure ci sono alcuni incubatori che prendono l'equity sono incubatori privati normalmente è il percorso un po' più lungo proprio perché devono aiutare una nuova start up invece lo start up studio esattamente come come un fondo ha una logica di exit ok quindi il loro l'obiettivo di studio è exit si parte proprio dalla dal crearla di creare un qualche cosa basato su un need effettivo di mercato e normalmente la durata va dai quattro a sei anni qua ho messo una data secca e l'approccio è hands on perché vuol dire che si lavora su quell'idea in pratica e ehm l'equity presa normalmente viaggia tra il trenta e il settanta proprio che lo start up studio è il primo produttore è il founder di ogni start up che crea poi adesso le best practice nel tempo l'hanno portato sul trenta ehm vediamo un attimo non mi cambia le slide meraviglia sì così sì però ok ne stanno nascendo sempre di più cioè se immaginate il 96 dal 96 99 ce ne sono stati 13 e poi ci ha messo un bel po' a decollare no perché se vedete fino al 2009 non è che il numero sia cresciuto in maniera sostanziale quindi c'è stata poi invece una prima onda vera anche se si dice che ci sia ancora la la quella nascente che la subito poi nel 96 poi dopo tra 2000 e 2009 la seconda poi la terza e poi la quarta che è quella dove ci troviamo ci troviamo anche noi di Mamazè no? E il numero sta crescendo sempre di più perché? Perché molti acceleratori stanno riconvertendo le operazioni molti eh venture capital quindi fondi di venture capital eh early stage stanno adottando un approccio più operativo e adesso in realtà questa è una conta ancora l'anno scorso la nuova conta ehm è intorno a settecentoventi e anche gli asset under management stanno crescendo in maniera significativa però vediamo perché il perché secondo me è ben spiegato da questa slide no? Perché i tassi di successo sono molto molto più alti rispetto a quello che accade normalmente in industria ma c'è un motivo no? Infatti c'è anche un altro lato della medaglia cioè i tassi di successo sono più alti ma c'è il lato della medaglia che non ne possono produrre più di tante ok? Essendo un approccio molto operativo molto di eh di lavoro di lavoro effettivo immaginate che uno tra i migliori insieme a a cioè le tassi di successo è un tassi di successo incredibili perché su centocinquanta aziende create hanno fatto trentacinque IPO hanno fatto tredici M&A di di altissimo livello quindi lavorano molto bene ma non ne possono fare miliardi se voi pensate 150 un acceleratore un incubatore fa in tre anni ma i tassi successo sono decisamente inferiori no quindi l'acceleratore incubatore predigono la quantità ma ovviamente per la natura proprio le start up no imprese in erba no è un piccolo virgolto è complicato mentre invece gli start up sud e le exit anche sono più veloci questo poi vediamo magari il perché ecco uno è perché le exit sono più veloci spiegato bene qua di fatto negli studio siccome c'è questo processo industriale no lo studio parte da tante idee le analizza tra poco lo vediamo bene di fatto quello che si è osservato questo è uno studio fatto nel 2020 se non ricordo male e in questo studio si è evidenziato quindi era un periodo in cui ce n'erano fate conto più o meno un cinquecento start up studio nel mondo cinque seicento è stato fatto su due centocinquantotto start up studio quindi una percentuale significativa e si è visto che in media tutto bene sentite mi sentite sì però non ti abbiamo sentito però c'è stato un buco di audio e ho notato anch'io infatti ho risistemato il cuffio dovrebbe andare comunque in in media su duecentocinquantotto studio su cui è stato fatto questa analisi all'epoca c'erano appunto cinquecento cinquecentocinquanta nel mondo più o meno approssimativamente perché poi ci sono sempre un po' discussione sul numero più numero meno però la la misura netta è quella il tempo per andare da zero a seed è dodici mesi di una start up uscita allo studio mentre fuori ce ne vogliono trentasei quindi venti quattro mesi in più il tempo per andare da seed a series a sono altri dodici quindi in ventiquattro mesi vanno da zero seed e da seed a series a mentre fuori accade in cinquantaquattro questo vi spiega bene il perché il tempo di exit è più veloce banalmente per questo o meglio questo è uno dei motivi che sottosta a quello ce ne sono altri ma questo sicuramente uno di quelli importanti qua vediamo ve l'ho già fatto vedere magari quando abbiamo fatto questi sono alcuni benchmark delle start up andate bene gli studios ma ce ne sono centomila altri cioè idea lab a sette unicorn sette unicorn che nel caso di idea lab su centocinquanta equivalgono a un numero che eccede di diverse unità di misura la percentuale la percentuale la percentuale tipica di unicorn nel mondo no cioè sette su centocinquanta è il quattro quattro e mezzo per cento più o meno se voi guardate che normalmente uno unicorn si presenta ogni 0,0004 quindi come è possibile che ci siano così tanti unicorn concentrati all'interno di uno stesso di una stessa azienda proprio perché il metodo funziona ce lo dicono i dati che abbiamo visto sopra ma ce lo dicono poi anche i risultati effettivi no infatti se guardiamo ancora no questi erano alcuni degli esempi diciamo un po' più diciamo eccezione abbiamo abbiamo Bitly che voi magari non conoscete ma Joy che è di un mio caro amico Alper Salen che sta in Emirati Arabi Uniti e Hintz Jet Closing Aircall Giphy cioè Dollar Shave Club l'abbiamo vista poco fa Snowflake ma ce ne sono mille altre che sono state fatte agli studio che sono famose e però non sappiamo chi c'è dietro proprio perché gli studio tendono ad avere un low profile avendo cose che funzionano e normalmente costituendo questi fondi affiancati appiccicati continuano poi a essere rifinanziati meno male agli stessi investitori quindi non vanno tanto a caccia ed essendo unità che funzionano abbastanza bene diciamo non tendono a non farsi troppa pubblicità ultimamente questa cosa sta cambiando proprio perché si sta lavorando su creare un po' di diciamo di awareness sul metodo tra qua sulla destra invece vediamo diversi investitori ne conoscete certamente alcuni almeno Bezos Expedition o 500 che hanno investito in studios addirittura negli states dove lo stadio dell'arte è un po' più avanzato lo stadio dell'arte è un po' più avanzato è nato un fans of fans quindi un fondo di fondi che investe solo in fondi fatti dagli studio quindi solo nei dual entity e questo si chiama Volt Fund di Sarah Anderson non lavorano ancora su Europe ma è il loro goal per il 2024 quindi è bene che nascano tanti studios perché questi sono a caccia un altro dei motivi di successo di studio che cos'è no? adesso qua vedete un la parte del diciamo del un processo di creazione abbiamo messo anche delle cifre ma potevamo 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 non mettere le cifre i mesi ma l'abbiamo messo lo stesso per darvi un'idea di come funziona un processo all'interno di di uno studio classico qui chiaramente ragiona parte del nostro ma questo bene o male è un modello che se voi andate a cercare startup studio process senza che ve lo dica io su Google troverete questo tipo di processo bene o male è un po' diverso cambiano un po' i tempi cambiano un po' i punti di partenza ma bene o male il processo nei fondamentali mantiene questo che si fa? si fa la thesis development ovvero ogni studio una volta si potevano fare generici perché una volta come anche una volta nel mondo esistevano magari aziende che facevano avevano tantissime unit all'interno adesso ci si tende un po' più a specializzarsi su un verticale perché? perché c'è una competizione molto forte e conviene molto di più fare bene una cosa perché si riescono nel caso degli studio ad attrarre che ne so se uno studio fosse verticale fintech chiaramente riesce ad attrarre founder fintech perché ovviamente inizia a registrare buoni risultati quindi le persone vogliono andare quindi è importante prima avere un attesi dello studio quindi essere molto molto verticali il più verticali possibili per esempio nel caso di Mamazen noi siamo concentrati su startup digitali B2B rivolte a micro imprese e tra le micro imprese e tra le micro imprese neanche tutte cioè noi interessano più micro imprese che fanno servizi alla persona e non ci interessano per esempio tutta una parte di dove la tecnologia è il fondamentale per permettere alla micro imprese di scalare cioè noi ci concentriamo per esempio più su soluzioni dove il software è un sistema abilitante per rendere l'esperienza cliente per esempio migliore o per rendere il processo diventa migliore o per rendere i processi della micro imprese migliori ma non utilizziamo cioè non è il software il valore il software deve essere abilitante per fare una cosa meglio ci concentriamo sulla parte di trasformazione digitale perché nel nostro caso le micro imprese perché per esperienza abbiamo tante esperienze in quel caso lì e soprattutto perché il rappresentano il 99% delle imprese che ci sono in Europa e rappresentano il 20% del del PIL in Europa poi eh fatta la tesi quindi quando uno startup studio è si è verticalizzato o di anno in anno uno decide va bene lavoriamo che ne so sul cluster dei professionisti nel nostro caso no quindi si parte si iniziano analizzare dei report per capire dove stanno i problemi no a livello macro quindi si si parte con tanti problemi più che idee no perché qualcuno mi chiede sempre ma come fa uno startup studio a ideare di base uno startup studio non fa ideazione in realtà fa ricerca di problemi quindi partendo da dei report su dei cluster classici se io chiedessi a ognuno di voi nel proprio campo saprebbe probabilmente indicarmi i problemi di un determinato settore nel quale specializzato ecco gli studio fanno questa cosa qui partono da dei report identificano dei problemi quindi dei jobs to be done dei problemi identificano dei dei bisogni che magari adesso sono risolti ma in maniera poco funzionale troppo costosa inefficiente insomma varie cose e in questa fase qui ci si concentra si entra dentro si lavora su trenta quaranta problemi poi lì si stringe scegliendo in adattabilità per il team facilità a farsi scalabilità insomma ci sono diversi parametri che aiutano a passare a una decina e poi si fa la validazione la validazione cosa vuol dire ne ne parlavamo l'altro giorno con un collega imprenditore c'era validazione per uno studio significa ehm fare noi noi usiamo molto la tecnica della pretotipazione che significa significa che facciamo dei test senza mettere su veramente un prodotto se noi troviamo un report che dice che gli agenti immobiliari passano il venticinque per cento del loro tempo a suonare i campanelli e sono sicuro che qualcuno di voi risuoni non il campanello ma questo fatto e a mettere in buca eh volantini e a chiamare per dire è vero che cercano da voi che vendete un alloggio oppure ho un mio cliente che cerca un alloggio nel momento in cui si trova un report di questo tipo si intervistano nel nostro caso abbiamo intervistato gli esperti e scopriamo che è vero poi intervistiamo gli agenti immobiliari gli chiediamo come loro acquisiscono come fanno la giornata come fanno l'acquisizione cliente e gli diciamo ma perché la fai così ma perché non hai provato in altri modi scopriamo che per loro è un problema ma che non hanno un'altra soluzione quindi sono coscienti del problema e non hanno una soluzione allora in quel caso abbiamo provato a mettere su per esempio una landing no? una pagina statica con scritto con le loro parole con i loro modi con i il loro modo di esprimersi quello che loro percepiscono come un problema poi le abbiamo detto ok sei disposto cioè noi ti diamo invece persone che vogliono vendere casa nel target eccetera eccetera vuoi dieci contatti di persone così? cliccano fanno per comprare i contatti noi li richiamiamo diciamo guarda non c'è ancora nella tua zona perché lo vuoi comprare cioè questa è la fase in cui cerchiamo di capire se la soluzione al problema di cui loro ci hanno parlato in chiamata intervistandone dieci venti è quella che noi abbiamo pensato e facciamo dei cicli di iterazione fino a capirlo immaginate su questo gli agenti moltiplicati immobiliari moltiplicato per dieci test quando capiamo cosa funziona allora costruiamo ma a quel punto abbiamo product market fit cioè sappiamo che quella cosa lì che abbiamo costruito ha un bisogno e non abbiamo ancora costruito un prodotto e quindi non è che lo startup studio molto spesso si dice gli startup studio le startup degli startup studio falliscono meno non è proprio vero falliscono prima a meno costo perché noi in questi 5.000 più 15.000 più 45.000 abbiamo fatto validazione di 50 idee che siamo partiti con tante siamo arrivati a 10 e poi le abbiamo validate e ci abbiamo speso quello che una startup non spende manco per partire perché per validare un'idea magari gli servono 200 250.000 euro quindi abbiamo reso efficiente ripetibile un processo in maniera semplice poi costruiamo un MVP alias un prodotto molto molto semplice che abbia pochissime caratteristiche solo quelle essenziali e lo costruiamo tendenzialmente no code questo vi parlo di noi ma vale per tutti gli studio e sì a quel punto lo studio appiccica un team esperienziato perché perché si vede se si vanno a guardare le statistiche i team esperienziati funzionano meglio cioè un team con persone di 40 anni funziona meglio se ha fatto esperienza in fast growing environment cioè ovvero se ha fatto esperienza in se ha già avuto tante esperienze diciamo e non è al primo giro cioè chiaro che se passa da un ambiente solo totalmente manageriale al primo giro di un'avventura probabilmente più complicato e poi si passa al funding delle migliori no questo bene o male il processo di uno studio e che rischi va a mitigare va a mitigare i rischi di non avere un buon team di non avere un prodotto validato e di avere problemi di fundraising no perché si hanno sia le risorse sia il team giusto perché viene selezionato e sia la validazione ok poi qual è il modo migliore per farlo ho scritto un white paper come citava giustamente barbara su questo ma non ho scritto uno solo io e basta cioè se voi andate a vedere le best practice anche un altro white paper scritto da john carberry ne sta credo per uscire un altro anche di alper science parla di questo da secoli atomic utilizza questo modello science se voi guardate lista i migliori startup studio al mondo è sempre uno dei primi citati insieme ad idea la atomic fa questo m13 fa questo ma perché fanno questo perché il mix perfetto e perché facciamo finta che cioè questa cosa qui in realtà nasce da un io mi immagino che sia nata così perché è nata tanto tempo fa quindi si è perso perché si è arrivato a questo ma quasi tutti raccontano che più o meno così gli esperti negli studio cioè si ha un fondo early stage che fa proprio diciamo presid no quindi perché fa presid perché vuole fare ritorno alto ma nel presid c'è fallimento altissimo ritorno alto ma fallimento alto e in più il fondo deve scontrarsi con altri fondi presid a caccia delle migliori startup quindi deve combattere con altri per entrare nei deal buoni perché è vero che i deal non buoni cercano soldi ma i deal buoni i soldi li trovano e quindi se non vuoi rimanere fuori devi combattere in termini di condizioni investimento e cosa porti al tavolo se no il fondo rimane fuori da quel deal e poi deve farsi una super due diligence e non può farla neanche troppo lunga uno perché lo stadio dell'impresa quando sei in presid cioè cosa fai due diligence c'è ben poco no mi piace il team il sounding dell'idea è buono ok mi piace il team mi piace il sounding dell'idea mi convincono in termini di quello di cui stanno parlando della visione che hanno nel mondo ok gli do i soldi ma poi incappare in founder che vendono super bene ma non lo sanno fare ci sono team disomogenei non è detto che i founder sappiano mettere sulla struttura della startup abbiano abbiano capacità di capire quanto si possono diluire cioè ci sono un sacco di variabili che ovviamente rischiano di rendere l'impresa fallimentare no ed è per quello che i fondi precede investono normalmente ticket molto piccoli su tantissime ok immaginate invece un fondo precede che incontra lo startup studio lo startup studio come vi faccio vedere nei dati ha un tasso di successore 40 per cento in quella fase lì quando escono quindi significa il tasso di fallimento di un series b se voi andate a vedere i dati crunch base il tasso di fallimento di studio equivale a un series b ma il ritorno è quello di un precede quindi il sogno degli investitori no un precede con un tasso quindi cash on cash return quindi tanti soldi di ritorno si gira bene ma un tasso di fallimento più basso quindi immaginate queste due entità lo studio e la holding company o il fondo early stage che si incontrano e uno dice cavolo questo ha mi dà già le startup ha tassi di successo elevati fantastico lo studio dall'altro lato di cosa ha bisogno ha bisogno di finanziare le operazioni per produrre e da qui nasce la relazione mutualmente vantaggiosa perché perché la holding o il fondo early stage nel nostro caso holding mette i soldi nello studio e si prende un 25 per cento nel nostro caso ma di solito una quota di minoranza è varia tra il 10 e il 30 di un portafoglio già automaticamente diversificato perché lo studio nel nostro caso ne produrrà 15 ma nel caso in alto studio può essere 20 25 ma più o meno il numero in cinque anni è quello 10 20 25 più o meno questi sono i numeri quindi per un fondo early stage che magari è un micro fund a 10 milioni praticamente ha già tutte le startup che gli servono lo startup studio si finanzia le operazioni ma la holding mette solo un piccolo pezzo del proprio della propria dotazione finanziaria quindi mette solo un piccolo pezzo ovviamente qual è il vantaggio del fondino early stage che dice però tutto ciò che esce da te il primo a volerci investire a condizioni predefinite sono io quindi force right of refusal quindi le startup che escono non possono andare da un altro fondo anche se arrivasse sequoia devono passare dalla holding dello studio e questo è il vantaggio per la holding dello studio per il fondino appiccicato allo studio io parlo di holding di fondo alternativamente semplicemente perché italia conviene fare la holding perché non non ha alcun senso in termini di dimensioni mentre in in delaware con 40k all'anno fai un piccolo fondino quindi la holding si trova il vantaggio che tutto ciò che esce passerà prima a determinati condizioni con dei patti parasociali già predefiniti contatti di investimento predefiniti a un prezzo predefinito lo studio si trova il vantaggio di non rallentare le proprie operazioni di avere benzina per produrre tutto e gli startup founder hanno la possibilità di avere subito il funding se fanno un buon lavoro e in più il fondino si risparmia anche la due diligence perché tutti i dati sono tutti giusti e sono già in possesso dello studio ed è per questo che la holding normalmente viene gestita da manager dello studio infatti è applicata dai migliori studio science quello di destra quello con queste due stelle atomic e m13 applicano tutti questo ma anche jeremy barton che ha fatto partire il suo ha applicato questo anche untapped venture di george bandarian tutti stanno applicando questo modello enhance è il modello che è quello che vi ho spiegato dove c'è la holding nel nostro caso IH1 che investe in Amazon si diversifica automaticamente perché si prende un pezzo di 15 startup poi investe nelle 10 migliori dopo un periodo di osservazione quindi il rischio si è ancora mitigato e poi investe ancora il restante dopo ok quindi questo per darvi un po' diciamo un focus su come funzionano gli studio in termini di verticalità invece come vi dicevo cioè Mamazen si focalizza su micro businesses perché vi ho detto per l'esperienza per il fatto che è tantissimo è il 99% dei business la soglia cioè la difficoltà di agganciare lo stakeholder corretto quindi di parlare col decisore è praticamente nulla rappresentano il 20% del PIL in Latino America è facilmente scalabile e abbiamo un'esperienza pazzesca in questo campo quindi lo conosciamo e in più la trasformazione digitale è la soluzione per questi micro business per non rimanere fuori dai giochi quindi c'è tutto per noi c'è il need da parte loro c'è la dimensione del mercato c'è l'esperienza e c'è anche l'impatto cioè a nessuno piace ne parlavo con un amico che vive in Londra e nessuno piace che i neighborhood i quartieri non sono più autentici perché stanno svuotando dei negozi locali per far spazio catene a nessuno piace cioè la gente cerca autenticità se voi guardate il report in sto periodo parlano tantissimo di questo quindi è anche un trend è necessaria questa cosa e le persone la vogliono cioè il mercato la vuole si vuole che si ritorni a questa parte ovviamente cambiandola abbiamo l'esperienza c'è il mercato grande ed è fondamentale farlo qui adesso vedete ancora Drag & Pay all'interno delle nostre ma questa è una startup che noi abbiamo deciso in questo caso di fermare le operazioni per la questione del momento siamo partiti abbiamo fermato le operazioni questo di nuovo perché uno sta ma questa startup non sono stati spesi nonostante ha già fatto del transato cioè a nessuno è stato chiesto di investire la maturità dello studio sta nel fermare le startup che non funzionano ma ne abbiamo fermate anche altre abbiamo fermato una che si chiamava Mosa nel quale cioè noi avevamo diversi investitori pronti a investire immediatamente su Drag & Pay ne avevamo moltissimi su Mosa abbiamo avuto Devon Cloud cioè ce ne sono state tante di startup che sono passate alcune sono arrivate un po' più in là più vicino all'MVP e altre sono fermate prima invece in poi che è quella in ambito immobiliare che proprio aiuta a quella che vi raccontavo gli agenti sta girando sta funzionando Morsi è stata anche piattaforma doorway sta aumentando in realtà qui c'è scritto che 400.000 di anno non è un recurring revenue ma ipotizziamo di riuscire a raggiungere 500.000 euro di fatturato quest'anno di Orangogo probabilmente avrete sentito parlare perché Banca Sella ci ha investito da poco con Banca Patrimoni ok questo mi serviva per darvi un po' diciamo un un overview di quello che sono le cose vorrei andare magari sulle domande in modo da insomma da da vedere cosa interessa a voi cosa volete conoscere di più sugli studio certo allora prima di tutto grazie Farad per questa diciamo spiegazione esaudiente naturalmente ripeto agli investitori collegati che possono intervenire direttamente e sottoporre direttamente a te le loro domande o scriverle in chat e noi ci occuperemo di sottoporle una curiosità generalmente noi come team il nostro team di screening interno quando si occupa di selezionare di valutare una start up in fase seed la prima cosa che guarda è e comunque il fattore a cui dà un maggior valore è il team mi chiedo come si crea un team o un CEO committed su un progetto che di fase che di base non ha non ha creato lui non ha pensato lui ok allora il questa in realtà vabbè ci sono è una domanda che viene fatta spessissimo a tutti gli studios peraltro anche quando siamo partiti in Italia mi hanno detto diversi colleghi americani mi hanno detto vedrai quante volte questa cosa ti farà chiesta allora da un lato io faccio sempre la battuta se hai adottato un figlio non è che tu lo ami meno e se tu hai avuto un figlio non è che tu lo ami di più questo secondo me è un punto interessante il secondo la seconda risposta un po' più un po' meno da pocherista un po' più da analista che in realtà i dati ci dicono che ci sono anzitutto che che gli studio che funzionano così in realtà funzionano e le start up vanno dalla zero alla fine proprio perché quella persona sale su quell'impresa perché ne comprende bene gli orizzonti gli piace l'impresa la sceglie la sceglie e la porta fino alla fine e in più essendo una persona con più esperienza perché quasi tutti i studio scelgono un'esperienza importante alle spalle o come second time founder o comunque come persona in fast growing environment quindi da da aziende di consulenza o che è stata in posizioni sì cx o in in start up scusate in scale up infatti nei nostri annunci trovate quello di solito hanno più maturità perché il secondo giro non è come l'indamoramento al secondo giro si è un po' più lucido e questa è un'altra è un'altra risposta e la terza risposta è che in realtà anche le start up fanno così quando cercano un co founder e molto spesso sono i co founder quelli a rimanere anche questa è una cosa che accade e quindi c'è e invece un adjustment che abbiamo fatto noi in Amazon ma sicuramente lo applicherà anche qualche altro studio non mi piace prendermi la paternità della di una cosa è che in realtà noi cerchiamo di far salire i founder già remunerati nella fase in cui facciamo questa editazione in modo che siano co-creatori dell'impresa sei in muto Barbara giusto ci sono ah guarda ci direi che c'è una domanda Sofia allora Dario chiede ci sono in Europa fondi di venture capital che hanno nei propri radar l'investimento in studio allora i fondi di venture capital non investono in studios direttamente ma proprio per loro mandato perché i fondi di fondi sì in Europa allora in Europa secondo me ancora no fondi di fondi ma perché non abbiamo ancora secondo me un numero sufficiente ne sta nascendo uno negli Emirati Arabi che al momento opera stile club deal e di un mio caro amico che sta facendo questo ce ne sono due negli States e uno di questi negli States si concentra in Europa ma dal 2024 ci sono molti family office e business angel che stanno iniziando a metterlo dentro come asset alternativo tanto che noi abbiamo fatto un white paper insieme ad alcuni family office che andrà tra poco in edizione che è ancora in fase di bozza proprio sullo startup studio come asset da inserire all'interno di di una strategia insomma alternativa no? quindi se uno fa private market perché è interessante perché si ha un come sono micro fondi quelli che operano con gli studi ma il perché è abbastanza semplice possono produrre poco quindi non puoi avere un fondo enorme deve avere un fondo dove che la dimensione segua la capacità produttiva dello studio quindi non essendo fondi enormi i ticket sono più piccoli quindi sono interessanti per una fascia di investitori più larga il tasso di ritorno è alto il tasso di fallimento più basso ma il quindi si ha buoni ritorni bassi tassi di fallimento e ticket piccoli e poi essendo strutturati stile stile fondi hanno normalmente le chiamate quindi si ha l'investimento spalmato quindi l'IRR diventa più interessante e l'altro aiutano diciamo se a una o tutto un portafoglio di quotato di azionario eccetera eccetera fanno da da sostegno fanno da sostegno e ti permettono di avere un buon ritorno e quindi di stabilizzare il tuo portafoglio perfetto grazie grazie Farad senti un'altra domanda che è emersa un paio di volte quando abbiamo presentato durante gli Investor Day il veicolo IH1 la maggior parte dei nostri investitori è abituata a investire e a finanziare le singole start up e quindi a realizzare un multiplo o comunque un profitto nel momento in cui si verifica un M&A piuttosto che è una quotazione da un veicolo come IH1 come si esce? Allora esattamente come si esce da un veicolo di VC quindi la logica esatto quindi la logica è quella di exit si liquida deal by deal e anche questo è legato proprio alla natura tipica dello studio perché si ha cinque anni in cui lo studio produce il fondo o nel nostro caso la holding IH1 Investor e poi deal by deal si liquida quindi quindi ci sono liquidazioni negli altri cinque anni quindi chiaramente sono esattamente come come un un fondo di VC le tempistiche simili un po' più corte se vogliamo e liquidazione deal by deal il che vuol dire che ne so che io investo ventimila euro in questo momento in IH1 e devo aspettare che siano liquidati man mano tutte le partecipazioni o man mano le partecipazioni vengono liquidate io ho un che ne so una restituzione di quanto ho investito esatto come diceva quello la seconda che hai detto quindi la seconda quindi man mano esatto mano mano che si hanno gli eventi di liquidità una start up fa exit si paga pro quota un'altra fa exit pro quota un'altra fa exit pro quota naturalmente al netto della management fee dell'un per cento che l'investitore paga annualmente sì sull'investito cioè quindi il primo anno su 20k il giorno in cui che ne so a T con due uno degli investimenti mi viene arriva realizza una exit e mi viene restituito io pagherò l'un per cento cioè l'investitore paga l'un per cento sulla quota investita rimasta corretto però paga paga il carry sì paga il carry chiaramente se si superano determinate determinati risultati anche noi fino a tre volte il carry nel nostro caso è un compenso è un compenso a performance degli amministratori chiaramente non è un carry nel nostro caso si ha un 20% fino alle tre volte poi se si eccede sale ma ovviamente eccede la performance insomma premio regolato con la performance grazie quindi di fatto c'è un allineamento di interessi tra voi manager del fondo e l'investitore quindi voi sì anche perché la parte di management cioè la parte di fisso è veramente quasi inesistente se voi siete abituati al fondo dove si parla di due due e mezzo e lo si dice su volumi di gestito più alti quindi su 50 milioni 100 milioni eh quindi ed è per quello che nessuno aprirà un fondo di eh di early stage per uno studio a meno di non creare davvero di non credere davvero nel risultato perché non conviene vedo che c'è una domanda da parte di Letizia Sofia se vuoi sottoporla tu a Farad volentieri e Letizia chiede quindi è diverso da un VC pago il compenso e ricevo il dividendo ad ogni exit ci sono VC che eh che liquidano deal by deal dipende dal VC però sì noi liquidiamo a ogni evento di liquidità non so se ho risposto alla domanda Letizia se non ho risposto ti chiedo di spero di vero ok penso di spero di aver risposto esatto direi che se non ci sono altre domande e eh nessuno ha eh altre curiosità eh io ricordo che eh il veicolo IH1 che finanzia appunto le eh start up eh dello start up studio eh Mamma Zen è raccolta su doorway fino eh alla pausa estiva quindi più o meno fino alla prima fino alla prima settimana di agosto e eh ci auguriamo che di aver risposto in modo esauriente a tutta una serie di curiosità che sono emerse durante gli investor day eh sul funzionamento dello start up studio e come l'abbinamento tra start up studio e veicolo di investimento secondo il dual entity model fosse il modo più efficiente di eh realizzare un processo eh di creazione appunto eh di start up e ringrazio tutti per essere coloro i quali si sono iscritti e collegati coloro i quali non si sono collegati riceveranno eh la registrazione eh dell'evento naturalmente per qualsiasi domanda noi eh del team doorway e eh Farad rimaniamo eh a disposizione e auguro buon pomeriggio eh a tutti grazie a tutti buona buona giornata grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti per la classici